Ciao a tutti, segnali per capire che sei una persona emotiva. Prima di affrontare il tema però ti ricordo l'abbonamento al canale Massimo Terramasco. Abbonati al canale Massimo Terramasco per avere, intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me. E abbonati al canale Felicità Benessere per diventare moderatore del canale, avere praticamente visibilità durante le live, veramente con una quota simbolica. Invece il canale Massimo Terramasco ha tre livelli di abbonamento. Abbonamento a base videoregistrazioni mirate, abbonamento top videoregistrazioni mirate più videoregistrazioni dei seminari dal vivo e abbonamento Master Consulting, tutto quello nel precedente in più una consulenza telefonica di 20 minuti. Bene, veniamo all'appuntamento di Torino venerdì 6 marzo alle 20.45. Elimini i blocchi emotivi per avere la felicità che meriti. Riferimento 333.15.11.703. E ti ricordo inoltre che per seguire questo seminario basta un messaggio su WhatsApp. E veniamo al tema, veniamo al tema come capire che sei una persona emotiva. La differenza, diciamo, è tra la persona emotiva e la persona iperlogica, ovviamente. La persona iperlogica è il contrario, diciamo così, da un certo punto di vista della persona emotiva. Noi abbiamo due tipologie di persone, di personaggi, diciamo così se vogliamo, che sono le persone emotive e le persone iperlogiche. Le persone iperlogiche sono quelle persone che al di là, diciamo così, hanno una parte logica molto forte e quindi si comportano in un modo particolare. Mentre le persone emotive hanno proprio questa caratteristica di essere, diciamo, di essere persone emozionali, persone che tendono a vivere in modo molto marcato l'emotività. E come riconosciamo, diciamo così, le persone emotive? Perché poi la cosa importante è sapere riconoscere, no? Quando abbiamo a che fare con una persona emotiva, perché riconoscere una persona emotiva ci dà molti vantaggi. Ad esempio, quello di poter mettere in atto delle strategie comunicative che possano, da un certo punto di vista, coinvolgerla. Cioè, a noi interessa poi capire se un'altra persona emotiva per coinvolgerla, interessa capire se noi siamo emotivi per poter, diciamo, evitare di coinvolgerci, ad esempio, su persone sbagliate, su persone che non ci danno quello che vorremmo, quello di cui abbiamo bisogno. Perché poi alla fine, questo è quello che succede, no? Ti vai a innamorare proprio delle persone che meno ti interessano. Ti vai a innamorare proprio delle persone che ti generano più tensione, più malessere funzionale, malessere organico. Allora, come riconoscere quindi? Quali sono le modalità per riconoscere una persona emotiva? Beh, una persona emotiva ha alcune caratteristiche, alcune caratteristiche fondamentali che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione. Queste caratteristiche sono una fortissima empatia, cioè le persone emotive hanno un'empatia veramente davvero molto forte e questa empatia si manifesta perché riescono a, diciamo, si coinvolgono sulla sofferenza delle altre persone. Cioè, le persone emotive hanno questa capacità di entrare in sintonia con le altre persone al punto tale da soffrire quando le altre persone soffrono. Quindi, e questo è, da un lato è bello, però dall'altro è molto meno bello perché, perché se sei una persona fortemente emotiva rischi di soffrire senza neanche rendertene conto, no? Hai un'elevata emozionabilità, cioè cosa vuol dire? che hai le emozioni che sembrano scoppiare. Basta poco che ti coinvolgi. Hai proprio la capacità, no? Oltre all'empatia, di coinvolgerti proprio su persone che vanno a stimolare anche pochissimo l'emotività. È come se le emozioni fossero sempre una parte, diciamo così, pronta a emergere, pronta a prendere il comando, pronta a venire fuori. Poi un'altra caratteristica è quella di essere sensibili proprio ai dettagli, alle cose anche sottili. Le persone emotive hanno la capacità di notare ogni dettaglio, di cogliere anche qualunque sottigliezza. Hanno, elaborano, diciamo, in modo molto raffinato le emozioni perché vivono delle sensazioni in modo molto forte. Vedono sfumature, diciamo così, emotive anche dove nessun altro le vede. E questo arricchisce molto il mondo, però sono appunto spesso sensibili e coinvolti dalle emozioni. Hanno la capacità di, diciamo, aiutare, tendono ad aiutare, a entrare in sintonia con le persone che li circondano. Una persona emotiva si offre spesso come aiuto, soprattutto se poi ha vissuto una conflittualità con la mamma, ha proprio questa caratteristica. Questi sono tutti i segnali, quindi l'empatia, l'alta capacità di entrare subito in stato di pathos, quindi o pianto, piacere o ridere, è un'altra caratteristica. La capacità di vedere dettagli è un'altra caratteristica. La capacità o la tendenza, diciamo così, ad essere empatici con gli altri e la tendenza ad aiutare gli altri. Ecco, queste sono tutte caratteristiche che vanno a contraddistinguere le persone emotive. Possiamo leggerle su di noi, possiamo leggerle sugli altri, e questo ovviamente è molto utile perché ci permette di stare meglio fondamentalmente, ci permette di vivere una vita migliore, sia con noi stessi, perché entriamo finalmente in ammonia con le nostre emozioni, sia con gli altri, per il fatto che avremo più possibilità, più strategie per comprenderli e anche quindi per conquistarli, sedurli, farli innamorare, insomma. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo l'appuntamento di Torino, venerdì 6 marzo ore 20.45, elimini i blocchi emotivi per avere la felicità che meriti. Riferimento 333 15 11 703 e ti ricordo inoltre di abbonarti al canale Massimo Terramasco per avere la possibilità di intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me. Ciao a tutti!